La notizia della ratifica russa Ciò che avevamo preveduto e quello che contro molteplici obiezioni avevamo atteso Già nel primo dibattito della commissione parlamentare avevo sostenuto che non conveniva allarmarsi e che la Russia avrebbe certo prima o poi ratificata Ma la seconda impressione fu di tristezza La ratifica russa equivaleva all'entrata in vigore del trattato E il trattato pesa sull'anima italiana e peserà per lungo tempo sulla nostra economia Ma il solito ottimismo mi giovò a riprendere sonno Il sacrificio oramai inevitabile aprirà la via alla nostra rinascita in dignità e libertà nella vita internazionale Domani Italia riprendere sonno